In questi giorni si è tornato a parlare di regionali, potrebbe non esserci il tempo di fare le primarie se ci fosse un'anticipazione a ottobre e la sinistra potrebbe sganciarsi però se non ha un candidato da presentare alle primarie, cosa pensate? Spero che provaga il buon senso, io lo ridico, le primarie non a tutti i costi, le primarie se si possono fare, ma le primarie devono servire per rafforzare e non per indebolire, concettualmente vanno bene le primarie se aiutano una candidatura contro un candidato forte come Maroni, se invece rischiano di fare allungare troppo i tempi in una campagna che si annuncia molto corta, secondo me si possono anche immaginare di non fare, però qualche forma bisogna trovarla, il mio suggerimento è che si possano coinvolgere tutti i sindaci lombardi del centro-sinistra e può essere quella un'alternativa sentire anche la loro opinione, quindi privilegio sempre le primarie, ma ripeto, solo se servono a rafforzare il candidato che dovrà fare una battaglia molto difficile e quindi quella di sconfiggere Maroni.